accendiamo qua c'è solo questo che rompe le palle perché se non c'è questo passi fuori no perché qua ti scappa sotto conviene che passiamo in alto però facciamo meno fatica la prendiamo la prendiamo la dove sono entrato io passiamo su in cima conviene andare indietro fino a un pezzo e la passiamo in alto tutta e conviene andare la che dopo scendi scendere scendi sempre spapi ma se andiamo più in alto e ho capito ma lì c'è giù tutti questi io andrei su fino in cima esatto io andrei su in alto non passare su in alto sembra che non ce ne siano altri eh lì è pieno anche lì figaro ne ha buttati giù anche qua eh no là ma ci passa eh ce n'è solo una che rompe le balle e in teoria no in alto non ci passi non ci passi su lì perché giù là ce n'è giù altre dieci tanto vale passare da qua tanto vale o tagliare via quella la o sennò devi passare qua dove è passato spapi però con giù questi qua di traverso perché di qua ci passi ma c'è giù questi qua che ti fa scivolare giù eh ci passi là spapi e allora passiamo su da qua ma qua te la fa scivolare giù Vito ti vengo adosso sicuro eh sono già passati di qua vedi che c'è giù i segni poi stai su in alto e passi giù e poi stai su in alto e passi giù come è che può? aspetta 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 Stai su, eh? oh si si è giusto scendi qua sei arrivato solo questo che rompe il marone seghetto non so dove ce l'ho faccio prima tagliare con quello